Il mio cuccio ha paura, lo porto via ma lo accarezzo e conforto con la voce. È giusto? Confortare qualcuno che ha paura è corretto. L'errore è che hai spaventato il cane. Non dovrebbe provare un'emozione negativa, tanto meno spaventarsi, soprattutto se è molto piccolo e sei nella fase della socializzazione. La fase di presentazione degli stimoli esterni, il mondo, la gente, i cani, i rumori, il traffico, è la parte più difficile e delicata della vita insieme a un cucciolo. Affidarsi a un professionista in questa fase vi risolve una quantità gigantesca di errori, tipo uscire e scoprire che il cane ha paura. Cerca di non spaventarlo, va in posti ipostimolanti, c'è tempo per presentare stimoli in più, non puoi fare retromarcia una volta che lui ha fatto un'associazione negativa con un'emozione non positiva. Per carità rassicuralo, non sta rinforzando la paura, ma non dovrebbe spaventarsi.